E ora parliamo del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto. Sono stati illustrati gli sviluppi del processo di elaborazione del piano territoriale e degli altri strumenti attuativi dell'area protetta regionale. Scopriamo di più nel servizio. Sono stati presentati gli sviluppi inerenti il processo di elaborazione del piano territoriale del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto, insieme agli altri strumenti attuativi dell'area protetta regionale, consultabili nel nuovo sito internet ufficiale del Parco. L'area naturale protetta, istituita nel 2007 dalla Regione Puglia, interessa i territori di 11 comuni. Il Parco dell'Ofanto è l'unico parco fluviale naturale della Puglia e dell'Italia centro-meridionale. La provincia Batte, durante il processo di elaborazione del piano e le successive fasi, ha attivato singole iniziative, aventi valenza sperimentale in relazione alla capacità di prefigurare scenari previsti dallo stesso piano territoriale. Si tratta nel dettaglio della rinaturalizzazione di alcune aree della foce del fiume, dell'avvio delle attività per il riconoscimento del marchio collettivo di qualità ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto, della sottoscrizione di quattro protocolli di intesa con quattro associazioni del territorio per l'avvio di attività finalizzate ad attuare le specifiche previsioni del piano in materia di progetti locali integrati. Ed infine l'imminente indizione del concorso di progettazione in due gradi per l'acquisizione di progetti inerenti, due alberga bici dalle funzioni complesse a servizio della ciclovia della Valle dell'Ofanto. Questo è un concorso che abbiamo fortemente voluto dedicare a un collega di Canosa, un validissimo collega recentemente scomparso circa due anni fa, l'architetto Donato Cappacchione. È un concorso che nasce da sottoscrizione di un protocollo di intesa con la provincia per la realizzazione di due alberga bici. Perché il concorso di progettazione? In due gradi. Perché questo permette attraverso la concessione di una piattaforma che l'ordine degli architetti mette a disposizione della provincia per la gestione dell'intero concorso che avviene in perfetto anonimato. Il concorso si ferma allo studio di fattibilità tecnica e economica, quindi per portare alla realizzazione dell'opera, attraverso questo protocollo di intesa, la provincia si è impegnata, quindi con l'ordine degli architetti, a sottoscrivere con i vincitori i successivi livelli di progettazione, ovvero definitiva e esecutiva.